Campotto e Valle Santa rappresentano una delle zone umide interne in assoluto più importanti in Italia e non solo in Italia ma nell'ambito dell'intero bacino del Mediterraneo. La ragione è che queste zone umide sono caratterizzate da ambienti davvero molto importanti anche a livello internazionale. In particolare l'ambiente della Mineto che ha un'estensione davvero straordinaria che è costituito da questa estensione coperta completamente di ninfea alba, quindi una pianta con questi grandi fiori bianchi e con queste larghe foglie galleggianti. Il ninfeto di Campotto è importantissimo perché ospita la più importante colonna italiana di Mignatino Piombato. Il Mignatino Piombato è una specie di sterna molto rara in Europa che qui nidifica già da diversi decenni. Io ho studiato questa specie qui a Campotto a partire dagli anni 70 e purtroppo abbiamo assistito a Campotto alla scomparsa del Mignatino negli anni 80 a causa dell'esplosione demografica della Nutria. La Nutria è un roditore sudamericano importato, una specie invasiva purtroppo in gran parte d'Europa e decisamente in Italia, che ha prodotto una modifica importante alla vegetazione palustre a Campotto, in particolare ha causato un forte disturbo ai Mignatini perché i Mignatini costruiscono i nidi galleggianti proprio in mezzo alle ninfee e questi ammassi di foglie e di rami che costituiscono i nidi dei Mignatini vengono utilizzati dalle Nutrie che saltano su questi ammassi galleggianti per la cura della pelliccia, naturalmente in questo modo disturbando i Mignatini. Grazie anche alla realizzazione di un progetto life specifico qui a Campotto è stato possibile, tra le altre cose, da un lato migliorare la qualità delle acque, altro aspetto molto importante perché così il ninfeto ha veramente un'ottima salute, uno stato molto positivo e anche al tempo stesso controllare e ridurre la popolazione di Nutria. Immediatamente c'è stata una risposta positiva da parte dei Mignatini piombati, per fortuna, che sono tornati a riprodursi a Campotto e in questi ultimi anni in particolare abbiamo avuto una colonia veramente estremamente importante tra le 250 e le 300 coppie. I Mignatini lasciano Campotto per l'Africa durante l'inverno e questo aspetto importante della migrazione di uccelli che nidificano a Campotto e vanno verso l'Africa si collega idealmente a un altro aspetto davvero molto importante che è rappresentato dal ruolo che a Campotto riveste l'ambiente di canneto. Qui abbiamo canneti veramente molto estesi che vengono utilizzati nella tarda estate dalle rondini, da numeri enormi, centinaia di migliaia di rondini che frequentano questi ambienti per prepararsi alla migrazione verso l'Africa. Le rondini stanno qui a Campotto, utilizzano i canneti per dormire la sera, durante il giorno si alimentano nelle zone circostanti, in questo modo riescono ad accumulare grasso che rappresenta per loro il carburante che questi uccelli utilizzeranno per raggiungere l'Africa con voli di migliaia di chilometri che porteranno le nostre rondini a svernare soprattutto in paesi dell'Africa centrale, a sud del deserto del Sahara, per cui questi uccelli debbono accumulare sufficiente energia, sufficiente carburante per attraversare sia il Mediterraneo e sia il Sahara centrale che è esteso anche più di duemila chilometri.